Una giovane attrice di Bollywood famosa per aver partecipato ad alcune serie televisive di successo è morta dopo essersi sottoposta ad un intervento di liposuzione in un centro estetico. Shetana Rai, di soli 21 anni, si è rappresentata al centro accompagnata da un amico che aveva dichiarato di essere un parente e firmato la liberatoria per l'operazione. Successivamente l'ha chiamata urgente ai familiari da parte dell'ospedale pubblico in cui Shetana era stata trasferita priva di coscienza. La giovane poco dopo è stata trasferita in un altro ospedale dove purtroppo deceduta. Il padre un imprenditore ha denunciato alla polizia i responsabili per negligenza medica. Grazie. 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 Grazie.